al campo comunale di casolava in scena la gara numero 21 del campionato nazionale under 15 serie c girone c la juve sabbia ospita nel derby la capolista paganese ospiti in campo con sito spina tomolillo del gesso petrazzuolo e di capua guadagno passaro casalini carolei e gioso a disposizione dell'allenatore gennaro scarlato d'alessandro cipollaro minopoli dell'aurentis romito e sgambati giù e sabbia invece con spina esposito noviello di pasquale campagnolo abissinia affinito de lucia romilli lettera e damiano a disposizione dell'allenatore alfonso belmonte borrelli enrico criscio vinci guerra fabrizio gambale roma martino e jengo una bella partita quella delle respette una grande partita delle respette che fermano così la capolista paganese finirà 0 a 0 ma queste sono le immagini parte il match dai ragazzi andiamo a vincere di gg ha finito cercava la conclusione e la parata barriera attenzione però all'attaccante il numero 9 lasciato solo di pasquale mi si mette davanti gioso un problema la conclusione termina alta sopra la traversa posta palla la juve sabbia dentro del pallone per damiano damiano salta il portiere damiano ancora damiano non riesce poi la conclusione al centro del pallone pericolo per la paganese juve sabbia vicino al vantaggio lettera ancora lui alza la gamba però sale la conclusione da lontanissimo di tomolillo il gesso perde palla con lettera che la riconquista di prima intenzione la si distende con romilli si lancia modesto damiano damiano punta l'aria di rigore damiano damiano in aria damiano il prova il tocco non riesce il pallone a passare juve sabbia ancora pericoloso al ventesimo regola del vantaggio petrazzuolo palla larga per spina spina scambia con passaro traversone in campagnolo poi lettera palla cadessa lì attenzione la conclusione spazza la difesa con un po' di affanno da stato carolei il traversone in aria di tacco ci prova toto poi la conclusione la parata ci ha provato gigi ha finito spine allora ancora juve sabbia in avanti con romilli palla per toto de lucia toto la conclusione e la parata di sito ancora gli sradica il pallone dei piedi palla per romilli ancora lettera alessio apre per toto de lucia toto toto ancora lui la conclusione col mancino gestisce il pallone la paganese con carolei che apre verso tomo lillo tomo lillo salta un avversario poi scambia con casalini ancora tomo lillo lettera prova a contenello va tomo lillo palla al piede incontenibile traversone traversa rischio guadagno palla lì ancora in aria la conclusione miracolo di spina miracoloso alberto ancora para lì e poi spazza la difesa finisce così 0 0 il derby tra la juve sabbia e la paganese davvero un ottimo match quello delle respette allenate da mister belmonte grazie mille grazie mille